Finisce il sogno scudetto per la ragazzini generali Catania Bistoccer. Milano vince e domina l'incontro, dopo un primo tempo equilibrato che aveva illuso la formazione etnea. 10-5 il punteggio finale, con i rossoneri che vanno avanti conquistando la semifinale, che giocheranno domani contro la Coil e Lignano, mentre gli etnei giocheranno le finali di consolazione contro l'altra grande e decaduta, Terracina. La gara è stata combattuta solo nei primi 12 minuti di gara. Ragazzini generali che preveva fin da subito il piede sull'acceleratore, cercando di bucare la porta lombarda e per ben due volte il portiere rossonero diceva no. Belluso esaltava il gioco con il roster che dava maggior affidamento, ritrovando Giudigno in cabina di regia, Platania a muro in marcatura su Bruno, mentre a Fred il compito di dare fantasia a Costankovic e Cecchino lì davanti. Benjamin e Alan in casa Milano erano la luce e giravano palla nel tentativo di sguarnire la retroguardia di Catania. Partenza, ripetiamo, vehemente del Catania, con Fred, Stankovic e Giunigno ad esaltare gli interventi di Rasulo. Milano sorgnone osservava e come una beffa bucava però con un'azione da manuale la porta di Caruso. Alan inventava e concludeva con la complicità di Benjamin e Bruno per l'1-0. Il raddoppio ancora di Milano, invece era una vera invenzione di Benjamin che con un colpo sotto sorprendeva Caruso fuori dei pali. Un 2-0 assurdo per ciò che si era visto, ma Catania non mollava. A metà primo tempo la reazione portava la firma di Dejan Stankovic, abile a ribadire una respinta sul tiro di Fred, di Rasulo. E quasi allo scadere del primo tempo l'orgoglio della ragazzini generali portava la firma di Capitan Platania. Straordinario a girare a rete in semi rovesciate il 2-2. La gara era bella ed entusiasmante ed il pubblico presente era pronto a vivere una ripresa da fuochi d'artificio. Invece Catania scompariva dal campo e non riusciva a tenere il passo degli avversari. Da non credere l'atteggiamento anche senza palla degli uomini di Belluso, che non riuscivano a reagire all'1-2 iniziale ancora di Milano con Benjamin e Bruno. I rossazzurri scomparivano e Belluso nonostante i cambi non trovava reazione nei suoi giocatori. Giudinio appariva stanco ed imballato, perdendo tutti i contrasti, idem Fred che non saltava mai l'uomo e sbagliava ogni movimento difensivo che apriva alle reti ancora di Milano per un parziale secco ed imbarazzante di 7-1. Secondo tempo chiuso dall'erronea espulsione della terna arbitrale ai danni di Capitan Platania, reo di aver colpito a gioco fermo Bruno, mentre il contrasto con l'attaccante di Milano era avvenuto con il portiere Caruso. Il terzo e definitivo tempo era solo Mera Accademia. Sul 9-3 la terza segnatura portava la firma di Borbone su Piazzato, non consegnava altre emozioni e Milano controllava la gara fino al fischio finale. Per la cronaca del definitivo terzo tempo i rossazzurri segnavano con Fred e Daniele Bosco, mentre Milano chiudeva i conti sul 10-5 ancora con Ahmed. Finiva qui la gara e Milano approdava alle semifinali, regalando un pomeriggio amaro alla squadra del presidente Bosco, che per il secondo anno consecutivo deve abbandonare il sogno scudetto. ai quarti di finale.